Quinta riunione del canale che si fa chiamare Golden Age. Alla fine della riunione, della seduta, si sono avuti dei fenomeni di poltergeist, diciamo 7-8. Uno di questi è stato sicuramente questo straccio di pelle sintetica che è stato trovato tra le foglie di questo vaso nel terrazzo della casa dove si è avuto l'incontro. Questo straccio, quindi, avrebbe fatto questo tragitto. Prima stava esattamente qui. Esattamente qui. Adesso sembra così ma è di pelle sintetica, è così rinsecchito. Esattamente. Quindi il tragitto che ha fatto è stato esattamente questo qui. Ecco, prima stava qui. Grazie. 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 Grazie.